Dall'Albania fino alle coste salentine, la droga sostava presso un casolare di Casalabate per poi essere trasportata in diverse regioni tramite due corrieri albanesi. Il carico di marijuana è stato scoperto dalle fiamme gialle nel corso di un'operazione antidroga che tra Como e il Salento ha visto la collaborazione dei finanzieri lombardi con i colleghi del nucleo di polizia tributaria di Lecce. Oltre 650 kg di erba rinvenuta all'interno di un casolare custodito da un uomo originario del Montenegro mentre altri 150 kg di erba sono stati trovati a bordo di un'auto su cui viaggiavano due soggetti albanesi. Tutto ha avuto inizio su input della procura di Como. L'indagine ha permesso di accertare che i due soggetti albanesi fossero corrieri della droga che prelevavano la sostanza stupefacente da Casalabate distribuendola con consegne continuative quotidiane in varie regioni Veneto, Lombardia, Piemonte, Lazio, Marche, Toscana, Emilia Romagna e Abruzzo. I due sono stati intercettati in Puglia dove è stato sequestrato un primo carico di Maria da circa 150 kg. Dalle indagini il risultato è che i soggetti arrestati per muoversi e non destare sospetti noleggiavano vetture diverse e una volta giunti a destinazione riposavano per poche ore ripartendo per una nuova consegna. Si è stimato che la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare sul mercato un potenziale guadagno di oltre 4 milioni di euro. All'interno del deposito di Casalabate, oltre al grosso quantitativo di droga, i militari hanno scovato anche una pistola con matricola brasa e munizioni.